Dopo alcuni anni di gestione allegra e deficitaria, il socio unico di Funivie del Molise, ovvero sviluppo montagne molisane, su indicazione della giunta regionale e in particolare dell'assessore Massimiliano Scadabbeo, lo scorso 23 ottobre ha azzerato i vertici della società che gestisce gli impianti sciistici di Cambitello Matese e di Capracotta e ha nominato amministratore unico di Funivie del Molise, Mario Caruso. In vista dell'imminente avvio della stagione invernale, Caruso ha subito coinvolto i sindaci dei quattro comuni interessati, San Massimo, Roccamandolfi, Capracotta e Pesco Pennataro e ha attivato una serie di interventi per migliorare la sicurezza e la fruibilità delle stazioni di Cambitello e di Capracotta. Ma che situazione ha trovato? Ma una situazione dal punto di vista della sicurezza non ideale e quindi è stato uno dei primi passaggi che ho voluto cercare di tenere sotto controllo. Ad oggi devo dire che a distanza di un mese abbiamo messo in sicurezza del 60-70% di tutto quello che riguarda gli impianti, quindi a livello di cabine elettriche e quant'altro. Neve permettendo, la prossima stagione sciistica dovrebbe partire l'8 dicembre. In effetti sì, dopo tre anni di chiusura riapriremo anche l'impianto di risalia di Capracotta. Anche lì abbiamo rimesso appunto un po' tutta la situazione inerente alla sicurezza. È chiaro che noi abbiamo la bellezza delle nostre montagne morisane che vorremmo farle inerente le disponibili non solo per i morisani ma anche per il turista che viene da fuori, ma non solo nel periodo infernale ma anche in quello estivo. Lei ha già attivato una serie di contatti per divulgare bene queste due stazioni sciistiche soprattutto in Italia e nelle regioni con termini. Sì, in effetti nell'ultima settimana sto approntando un discorso di marketing al di fuori anche della nostra realtà morisana. È chiaro che in questi primi 20 giorni mi sfuggiva infatti di dire prima che anche la bilietteria, ci sarà una nuova bilietteria a Campitello molto più fruibile sia dal nostro personale che dai turisti. Per quanto riguarda appunto il discorso marketing all'esterno stiamo iniziando a lavorare moltissimo con realtà di fuori regione. Quando parlo di realtà fuori regione parlo di federazioni, di CRAL, stiamo avvicinando un po' una serie di associazioni per convogliare il turista nella nostra terra.